La Regione sta predisponendo una proposta di legge che sarà approvata dalla Giunta nelle prossime settimane. Il nuovo testo darà più potere agli organi con i quali collaboriamo, ha spiegato il Presidente Gianni, all'apertura di turismo al Palazzo dei Congressi a Firenze, direttamente per portare avanti le politiche di promozione turistica, ovvero gli ambiti che assumeranno il nome di comunità di ambito. Stiamo predisponendo una legge che proprio nei prossimi giorni verrà in Giunta per il passaggio Consiglio regionale. È una legge sul turismo che dà molto potere, molto valore a quello che saranno gli organi con i quali cerchiamo istituzionalmente di seguire le politiche di promozione turistica, ovvero le comunità di ambito. Chiameremo proprio comunità di ambito dall'antico nome con cui si chiamavano i comuni qua in Toscana. Le comunità di ambito sono 28. Finora le comunità di ambito esistono come ambiti da un punto di vista amministrativo ma non hanno i giusti finanziamenti. Noi nella legge metteremo l'obbligo di un capitolo di spesa che dia ogni anno alle politiche di promozione secondo i 28 ambiti quello che è il giusto finanziamento e faremo crescere l'identità di aree più che di province. Tutto quello che porta ad esempio oggi a vedere la Toscana candidata nel 2026 a città italiana e la cultura nella ristretta rosa dei 10 è rimasta la valdichiana senese. Con le comunità di ambito potremmo fare un lavoro di promozione specifica.